costruire un cruscotto aziendale in excel 2013 ciao sono aris questo breve video introduce una serie di tre video che ti guidano la costruzione di un cruscotto aziendale un cruscotto aziendale consiste nel visualizzare in una schermata indicatore rilevante i processi decisionali poi ad esempio seguire il trend delle tue vendite questa guida non entra nella teoria che regola il disegno di un cruscotto ma si focalizza sulla tecnica di elaborazione con utilizzo di molteplici funzionalità quali ad esempio forme dinamiche grafici controlli moduli formatazione condizionale e funzioni avanzate vediamo brevemente gli elementi essenziali del disegno di un cruscotto nel disegno di un cruscotto elementi correlati vanno posizionati assieme nessun elemento deve essere posizionato in modo arbitrario ogni indicatore scelto deve avere un significato inoltre chiaro per quanto riguarda i grafici può essere opportuno nel dubbio preferire i grafici consigliati da excel e altresì meglio evitare i grafici 3d che per quanto attraenti possono trarre in inganno sull'interpretazione dei dati ultimo consiglio non esagerare con i colori assicurarsi di mettere rilievo aspetti salienti il cruscotto verrà realizzato in tre parti quindi tre video il primo video ti mostra come inserire forme dinamiche e grafico combinato nel secondo video lavori con controlli moduli su grafico dinamico nell'ultimo video vedi come inserire una barra di scorrimento collegata a una tabella di dati e applicarvi la formatazione condizionale questa guida è ispirata all'ibu di stefan temgua di technology and strategy solutions grazie procediamo quindi alla costruzione della prima parte del cruscotto per rappresentare prima questi dati questi indicatori vado quindi al foglio cruscotto barra multifunzione schede inserisci ci servirà spesso lo strumento forme quindi clic destro del mouse aggiungere la barra multifunzione inserisco un rettangolo che avrà dimensione altezza strumenti disegno formato altezza 5 e larghezza 8 nel caso vuoi modificare le impostazioni di righello vai sulle opzioni di excel alt f o impostazioni avanzate e categoria visualizzazione e ai cui le impostazioni dovevo modificare a nulla con il rettangolo selezionato formattiamo questo blu rosso 40 per cento riempimento 80 per cento accediamo ad ulteriori funzioni funzionalità del formato clicco su questo tastino si aprono i si apre il formato forma che posso spostare se sono più comodo con formato forma mobile posso fissarlo a sinistra basta trascinare e si fissa a sinistra in questo caso sono più comodo a destra vado su riempimento linea e posso fissare lo spessore a 075 invio questa forma ci servirà mi servirà anche nel per la seconda rappresentazione quindi control c e control v in questo caso posso anche control z torno indietro rappresentiamo prima i dati all'interno del primo rettangolo rettangolo selezionato e la tastiera f2 per entrare in modalità modifica della formula oppure più semplicemente nella barra della formula uguale foglio dati e rappresentiamo in primis il margine operativo rettangolo selezionato dare su dimensioni carattere 50 non ha preso 50 ok colore un bello rosso scuro e lo posizioniamo al centro in questo modo inseriamo un secondo rettangolo per la descrizione del dato appena inserito questo rettangolo diamo altezza un centimetro e larghezza 8 copiamo le impostazioni date in questo rettangolo quindi copia formato e impostato dobbiamo solo modificare la dimensione carattere 16 rettangolo selezionato andiamo in barra al formula uguale e inseriamo la descrizione quindi andiamo ad inserire il colore ad esempio questo rossa colore 2 e di nuovo questo ok adesso selezioniamo sia il primo rettangolo che il secondo rettangolo mantenendo contro la tastiera premuto quindi secondo selezionato andiamo su strumenti disegno formato e raggruppa per trasformare in un solo oggetto a questo punto possiamo selezionare il secondo rettangolo deve essere selezionato vedere come puntano tutte queste pulsantini per indicare che il secondo rettangolo è selezionato quindi lo trascino verso il basso per sistemarlo ok seleziono una volta tutti e due e ctrl c ctrl v sposto il grafico con il grafico selezionato strumenti disegno in altezza 5 e larghezza 6 ok inseriamo i dati clicco una seconda volta per selezionare solo il grafico il rettangolo più grande qui avremo l10 e qui avremo k10 per la descrizione adesso formattiamo in questo modo questo rosso e 50 e qui è un bello rosso colore 2 e 16 ora il rettangolo per rappresentare il grafico per descrivere i dati che andremo a costruire di questa tabella di questi indicatori quindi copio prima questo un secondo clic per copiare solo il rettangolo più grande sposto e vado a cancellare questa formula mi rimane questo carattere selezione e cance della tastiera riduco questo a 10 ed ecco fatto ora dovremo costruire i dati di paragone consultivo rispetto al budget per fare ciò trasformo prima la mia tabella in tabella excel che ha diverse funzionalità comode per lavorare control t dalla tastiera la mia tabella delle intestazioni il range rappresentato ok vado quindi a inserire consuntivo percentuale automaticamente viene associata la tabella e budget percentuale notare come inserendo nella prima riga la formula uguale consuntivo diviso budget questa formula è rappresentata in questo modo proprio perché prende vantaggio della funzionalità tabella di excel premo invio e automaticamente tutte le tutte le righe dell'intervallo di dati vengono riempite con il valore della formula copiata nelle rispettive righe qui per selezionare basta puntare in alto una volta per selezionare l'intervallo di dati inserisco 100% per cento control in view vado quindi a selezionare l'intervallo 2 control maiuscola shift control maiuscola freccia destra volevo dire strumenti analisi rapida grafici altri grafici andiamo quindi a tutti i grafici in questo caso scegliamo il grafico i grafici i grafici combinati questa prima scelta consultivo lo associamo all'asse secondario ok andiamo quindi a formatare il grafico e aggiungere e togliere elementi che non servono per fare ciò più velocemente andiamo sul pulsante elementi grafico questo più clicchiamo per attivarlo sul assi deselezioniamo secondario orizzontale togliamo il titolo applichiamo applichiamo le etichette dati e togliamo linee della griglia disattiviamo elementi grafico cliccando sul più etichette budget tutti 100% cancelliamo cancelli della tastiera procediamo quindi quindi a asse verticale doppio clic per aprire il formato asse per settare le opzioni settiamo quindi 0 il massimo che fissiamo è 1,25 e l'unità di incremento 0,25 invio ok segni di graduazione selezioniamo tipo principale esterno per far apparire queste barette ok andiamo su riempimento linea e scegliamo sfondo bianco sfondo 50% credo abbiamo sistemato l'asse verticale passiamo all'asse orizzontale linea bianco sfondo 50% e elemento di graduazione segni di graduazione principale mettiamo esterno etichette etichette di di bare di consultivo le andiamo a sistemare un pochino dopo intanto chiudo formato asse clicchiamo sul grafico selezioni dati oppure strumenti grafico progettazioni in questo caso è più comodo clicca su del mouse selezione dati budget consultivo andiamo ad attribuire l'etichetta di categoria a budget, budget è selezionato, quindi modifica, selezioniamo quindi questi indicatori, ok, invio, abbiamo tutte le etichette di categoria, selezioniamo consuntivo e attribuiamo come etichette i valori del consuntivo, vedrete quanto questo è utile, no, qua c'è un errore, ho selezionato consuntivo, invece dovevo selezionare da questo valore in qui, ok, ok, abbiamo, per ora non lo vediamo ancora perché dobbiamo far apparire i valori piuttosto che l'etichetta di valore, quindi clicchi, selezioniamo quindi queste etichette, tutte sono selezionate, andiamo sul, a doppio clic sul grafico, selezioniamo quindi etichette, in opzioni etichette, deselezioniamo valore e selezioniamo nome della categoria, togliamo mostra guide e passiamo a riempimento, riempimento, in questo caso è l'opzione di testo, riempimento testo e al testo attuiamo questo, al testo delle asse orizzontali delle categorie, troviamo questo, ok, passiamo a formatare le barre, alle barre riempimento, associamo riempimento questo valore e alle linee bordo, attribuiamo il bordo, questo bordo, per la linea che rappresenta il budget lo associamo con un blu scuro, l'asse, la descrizione dell'etichetta dell'asse orizzontale ci sembra lungo, andiamo a modificare qui, quindi reddito operativo, cambia automaticamente sul grafico perché il grafico è linkato alle celle, qui possiamo mettere mall, ok e abbiamo le vendite, in questo caso è molto più leggibile, per trasformare queste etichette in miliaia, chiudo questo formato asse, etichette, sposto il grafico, selezioniamo i dati, questo, maiuscola, freccia destra per selezionare anche il budget, control 1 dalla tastiera per aprire il formato celle, personalizzato e trasformiamo in miliaia in questo modo, ok, e automaticamente sul grafico viene trasformato, questa etichetta è orizzontale, c'è, clicco due volte, vado su opzioni testo, riempimento e scegliamo qui un, ok, mettiamo un grasso, sul carattere, ok, abbiamo finito con l'impostazione del nostro grafico, lo spostiamo con ctrl y, oppure possiamo utilizzare strumenti grafico e sposta grafico per sfruttare questa funzionalità, in questo caso annullo, utilizzo ctrl x per togliere il grafico, vado sul mio cruscotto, chiudo questa finestrella, ctrl v e sistemo quindi il grafico per introdurlo questo, ok, selezionare il grafico, qualche volta può risultare un po' difficile, clic destro, opzioni del grafico, togliamo nessun riempimento sul grafico per rappresentarlo, visibile, selezioniamo la leggenda, lo spostiamo un attimino verso l'alto, ok, chiudi, e ci manca per concludere questa prima parte, inserire l'opzione migliaia, quindi forme, rettangolo, inseriamo qui questo elemento, copiamo le opzioni di questa forma, queste due volte, copia, inserisci, e qui avremo 10, e mi, iaiaia, e selezioniamo questo, questo, non l'ho preso, quindi selezioniamo il rettangolo per attribuire questo, non è quello, e questo, ok, spostiamo questo in questo modo, e così abbiamo il nostro, la prima parte del nostro cruscotto, qui togliamo le, un doppio clic, qui, andiamo in formato, per aprire l'opzione, clicchiamo ad esempio qui, e andiamo su riempimento, nessuna linea, per togliere qualsiasi riga, ok, possiamo sistemare ulteriormente il grafico per renderlo allineato, ma gli elementi essenziali ci sono, passiamo quindi alla seconda parte della costruzione di questo cruscotto.